Si è aperta a Palazzo Lascaris con la giornata formativa per insegnanti la 35esima edizione del progetto di storia contemporanea bandito dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione. Gli anni di piombo, la nascita della Repubblica, le migrazioni internazionali sono gli argomenti delle tracce di questa edizione con la novità della possibilità di utilizzo delle tecnologie digitali. Tre temi di straordinaria importanza e che si intrecciano con l'attualità. Il primo parlerà di terrorismo, di terrorismo di ieri, nel 1976, negli anni 80 e di terrorismo di oggi. Il secondo parlerà delle trasformazioni delle Repubbliche, della nostra Costituzione. Il terzo avrà come tema ponti contro muri, un momento in cui la discussione sull'immigrazione si accende, si traveste di un colore politico. Abbiamo bisogno di capire cosa pensano i nostri ragazzi, di queste centinaia di migliaia di persone che cercano un futuro per se stesse e le loro famiglie in posti diversi da quelli in cui sono nati e vivono.